Sono Vittorio Zittun, più conosciuto perché come Vittorio lo conoscono in pochi, New Entry per il 2010 per il VPI, si presenta in classe V1 con una Vespa un po' datata diciamo. Esatto, tale Vespa risale al 1960, mi è stata regalata da un signore e quindi adesso l'ho preparata per la pista ma c'è ancora molto da lavorare. Oggi ho fatto il primo vero test e non è andata molto bene perché ciclisticamente non va bene, bisogna rivedere la ciclistica. Però diciamo che è già un inizio perché sono le prime prove che faccio, l'anno scorso sono riuscito a fare una sola mezza mattina di prove in pista e questa è la seconda prova che faccio con questo tipo di Vespa. Quindi ho ancora tutto da imparare e spero di riuscire nel più breve tempo possibile perché il campionato sarà veramente una grande battaglia. In V1 quest'anno siete in DPU, ho sentito 9 Vespe partecipanti alla classe V1, dove pensi di piazzarti? Messo come sono messo oggi all'ultimo posto, ho già verificato con gli altri concorrenti e sono messo male veramente per quanto riguarda la ciclistica. Perché motoristicamente va anche abbastanza bene, ma ciclisticamente sono messo molto molto male. Tanto più che mi sono voluto complicare la vita perché tutti corrono con le small e io vengo con una nonna del 1960, largona, grossa così. Ti distingui diciamo. Esatto. Comunque ti distingueresti in pista, tanto vale fallo del tutto. Io sono magro e ho dovuto prendere per compensare la Vespa Cicciona. Bene, allora da te non possiamo che aspettarci miglioramenti durante la stagione. Esatto, questa sarà l'unica cosa che vi potreste aspettare da me, però diciamo che realmente mi impegnerò il più possibile e vediamo un attimo di riuscire a tirar fuori qualcosa di interessante. Bene, grazie Vittorio, divertiti anche tu, non far danni. Ok, guarda, mi raccomando, speriamo che tutto vada bene.